che serata è una partita pazzesca penso che abbiamo giocato ottimo primo tempo e abbiamo fatto un gol e poi alla fine primo tempo successo due cose incredibili ma non siamo mollati anche in secondo tempo quando eravamo in dieci abbiamo giocato bene alla fine abbiamo vinto una dura partita contro il napoli mentalmente siete stati in vantaggio poi pareggio all'ultimo secondo avete sempre reagito bene sì penso penso come come squadra abbiamo reagito bene anche dopo la una sconfitta come quella torino non era non era facile venire qui e giocare una partita dura contro il napoli ma alla fine abbiamo 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 vinto e questa è cosa più importante alla fine personalmente che sensazioni hai avuto tornando titolare dopo così tanto tempo ero contento di essere sul campo e aiutare i compagni per me erano erano buoni 90 minuti e speriamo di io spero di continuare su questa strada e la coppa italia un obiettivo e adesso come andata la partita in serie a di lunedì sera ogni prossima partita è più importante per noi anche questa prossima prossimo lunedì in colto genova a casa dobbiamo dobbiamo provare il carattere e certo dobbiamo vincere le partite perché vogliamo stare su sulla classifica grazie mi ha fatto vedere a torino tutto fatto tutto fatto Grazie a tutti